E' Twitch ragazzi, allora aspetta che lo scrivo anch'io Ragazzi, l'agga è un problema di Twitch All right, all right Ok, adesso forse mi sembra andare un pochino L'ho scritto nel dubbio Ok Che schifo Vado per AD Boh, prendo Darius I don't know Goccia Darius, attenzione Beh, ci sta Cioè, ci puoi fare Prego Beh, la Youssef, devi fare l'eco con le stream Ci sta Perché? Comunque Ciro, cioè io tornerò sicuramente a giocare In In a West Quando metteranno il pass Almeno qua mi faccio un'anteprima Cioè, con le emote Le mie leggende, eccetera Cioè, io voglio Sbloccare la emote personalizzata Cioè, la emote Inedita per vedere cos'è Quelle cose lì Tanto In a West non c'è nulla Quindi C'è gioco lì Ok Fino a se stesso A sto punto Boh Darius lo voglio sicuro Vane la voglio sicuro Ah, se vedo Vane Bastard Vane fa cagare comunque come c'è Nel dubbio te lo dico Non voglio che tu abbia aspettative su di lei Lo so, lo so Ma quelli che bisogna assolutamente far Vane al 3 con la Windsor e vince da sola Sconosco io il champion che vince da sola Ah, se Non rimani dietro su a West In che senso, Yousef? Non ci sta il passo in a West, ragazzi C'è manco il serve tra poco Eh, il ba... C'è 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 Falafel è il cognome Falafel No, Cire, è gratis E' in gratis in Turchia Ah penso che sia in gratis ovunque tra Nino West Non penso si paghi in NA Appunto dico gratis in Turchia ovunque tra Nino West Perché noi siamo gli stronti soldi Esatto Noble gas slinger Chiamo Lucian allora Al posto di questo aborto Ecco qua Domanda è vogliamo andare in win streak o in lose streak Andare in lose streak non lo so Insomma come farò sto giro boh Andiamo così nel frattempo Che lo gasce faccio 5 item no 4 che 5 magari 5 Vabbè 4 item vuol dire che uno ne ho presi 3 alla fine C'è ho visto gente partire con 5 item Guarda quello lì è uguale 4 item Se rushi i nobili all'inizio è solamente per fare la win streak Sì sì è vero Penso Perché c'è guarda tipo questo qui c'ha 3 nobili C'ha il Garen qua con Tancosissimo col buff de nobili Questo qua c'è un pacaso però ho vinto perché ne ha 4 Benvenga Non voglio fare Gunslinger ragazzi Io non so poi Cioè se io devo fare Se io voglio una di che Se io Devo scegliere la strada degli adcari Esiste solo Draven per me Non esistono Gunslinger Non esistono Ranger Non esiste Vayne Non esiste Tristana Varus Soltanto Esiste soltanto Draven per me Ok L'uso è meglio Ne sono convinto anch'io Anzi quasi quasi adesso mi faccio Perdo diverse HP Wait Vai facciamo Giochiamo un attimo per perdere qua Almeno le prime Giusto per piccare prima il carosello Eh V L'ho giocata Presidente più Glaciel Di cui il presidente era un Glaciel Perché c'era Frosemalle Ok Vabbè Quello va attaccare ovviamente Quello col Col buff da nobile Ok Buono così 90 HP 88 Vorrei perdere Ma magari Uccidendone uno Non sarebbe una brutta cosa Certo Ok Chi è il presidente? È Driven il presidente Driven il presidente Alti presidenti sono Aurelion Sol Esatto E basta Aurelion Sol e Driven Di Hyper Carry che fanno 1v9 Conosco soltanto loro Poi ci sono delle altre combo Però Sì Voglio farmi i soldi adesso Sto half che proprio Esatto Non voglio prendere niente Zero Ecco Ecco mettiamo Ok così direi che posso perdere Ho messo Il peggio del peggio Così va benissimo Cosa ne pensi di Salvini? Mi fanno ridere ogni tanto I suoi video Tipo dove fa la ricotta Uscito un video su Instagram In cui È lì che fa la ricotta Col calderone Quindi boh Questo è il massimo Che posso dirti Perché Sul lato politico Non ho intenzione di parlarne Non si parla di politica qua Eh no Se una cosa in cui Non sopporto parlare È politica qua Ok Allora Noi cosa vogliamo Vogliamo L'attack speed Signori Ebbene sì Vogliamo l'attack speed Doppia main solo per perdere Così Ho messo tutti i tempi uguali Clap per perdere HP Vai Ne abbiamo persi 21 Va benissimo Vabbè Allora Vediamo un po' Qui Ci scappo fuori Eccola qua Che fastidio Non so che cazzo prende Rick Boh Pior pirata C'è la La giant's belt Vuoi la giant's belt? Eh non lo so Tra l'altro Tra tutto era la pena O peggio a sto punto Beh oddio la goccia Secondo me Vabbè La goccia e gli HP Sì C'è tipo Jarmor E le magic rest Sono più specifiche Ma gli HP Servono Sempre la goccia Quasi sempre Si può dire Ok Adesso Basta Lose streak Posso prendere una vena Così la tolgo a qualcuno Torniamo a noi Sto punto Anziché luce Non poter metterci Tristano Ora che ci penso Vabbè Ok Ma è bene L'ho preso Per togliere Agli altri Comunque Stanto perché C'è un sacco Ci sono un sacco Di Di vein F.A.G Che Che la vogliono sempre F.A.G Eh Che la vogliono sempre Secondo me Vein è tipo L'iPhone La gente La vuole A prescindere Perché sì Perché Voi bene Sì E te la Vein è l'iPhone Ragazzi Sto gioco Sì sì Ah è la Magna Merkebab Questo Ti è piaciuto Il kebab Sì L'ho mangiato Buono Che combo vuoi fare Puoi già immaginartela È sempre lei La combo È sempre lei La guinso Non la voglio Su Driven Comunque A meno che Non sia costretto Però appunto Non farla Posso fare Un grosso Garen Un grosso Salame Un grosso Salame Minchia Garen Morello E OP Se non fosse Che voglio Soltanto Driven In questo Momento Lo farei Subito Però potrebbe Servire Per una Guins Se non Riuscissi A trovare Le altre Cose Ok Vai Luzian Eh cazzo Viene con Il buff Daobal Viene con Il buff Daobal 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 Ah Allora Ok Zedis Coming Si Ma questo Sì Sì Digli che Venga Zedis Coming To town Santa Zedis Coming To town Ok Ok Basta Non spendiamo Più soldi Anche se Questo è un bel Night Potrebbe Servire Voglio Far Night Ma sì Dai Paranite Che voglio Il voice crack Di clap Qualcun altro Conosce Sto termine Vedi Eh beh Ragazzi Doi sapere che Ogni tanto Ancora Sì Vabbè Quando Quando parlo piano Non ci metto L'emfasi Mi capito A parlare A parlare più Così Più Basso Un po' Di voice Crack Ce l'ho Ci devo mettere il carico di voce Se no Se no Me Cracca Clapperone Parlare così Parliamo così Parlare con una voce bella carica Davvero uomo Bella caritas La voce per la caritas La voce della caritas Eccolo qui Clapperone e la voce della caritas Presto al cinema Al cinema Tomorrow Alla caritas Cata per rimpire Esatto Sto un attimo Sto seminando Vediamo cosa andiamo a raccogli Che frutto raccogliamo tra un po' Ragazzi Sì ma che cazzo è sto cassa Dino ragazzi C'è cassa di Doppia BT e Phantom Dancer Non penso sia fattibile Buttare giù quella Quella fare lì No Termano dei trucchi Cheating Questo è cheating ragazzi Questo invece c'ha Mordekaiser Col buffo dei nobili Che schifo Potrebbe essere un problema Come? Infatti non è morto L'hanno comunque stato in 5 Da mezz'ora non morire E questo è un bel problema Il link per vedere le build Mobalitics Non c'è il link C'è il nome a voce Mobalitics Che è la fusione tra Mobalitics L'avresti mai detto? Mobalitics Per me no Non l'avresti mai detto Lucia non mi ispira tanto Con questi oggetti Ma cambia repentino su Tristana No Sti cazzi No va bene Cambia repentino con Tristana Ecco qua E' un po' meglio Tristana A sto punto E' questo qui il cazzo Di doppia brutte lo ster Ah te lo sei beccato Dimmi come va Eccolo lì E niente Non perde vita T'ho detto Vabbè Non importa Mobalitics Mobalitics Ho mangiato kebabo Sei un grande Mangiatore di kebab Club lo sai Sì Beh li magno spesso Così c'ho il buff dei nobili Che è meglio di quell'imperial Per gli imperial Che ho adesso Ok Mi va bene Picco anche in fretta Anzi se perdo questa Potrei piccare Proprio l'oggetto che voglio Lo sai Club Ah sì Beh io adesso Andrò a cercare L'arco di curvo Bravo Club Cercherò l'arco di curvo L'arco bello Bello incurvato Posto di Lucian Io preferisco il buff dei nobili Dell'imperial Non ci voglio togliere Lucian Almeno guarda Almeno c'è C'è vene col buff dei nobili Che boh Fa il suo Ecco Qua è morto per primo Tizio infatti Ecco vedi Questo ha messo un bear redemption Nulla da dirgli E c'è già ciogatta Al 5 La madonna Ah però Vabbè Ok Ai 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 Tire te Club Picchiamo per privi No Un altro è andato sotto Ah no Mannaggia Bukin Ok è il momento Aspè Non sa che mi più Fierix sa cosa vuole Fierix sa cosa vuole Vuole l'attack speed Eccola qui Ah yes Anche il kebab Aveva voluto l'attack speed Me araben Yukari Eh si Eh si Inception Sa quello che vuole Lui lo sa Lui si Lui si Fierix sono la vostra In bagno Per il dato live Per una decina di minuti Grazie Marques Grazie mille Il mio non fa rumore Il mio fa soltanto Delle mosse Però giustamente È una pietra Ebbè È normale Non si potrebbe mai fare Allora È il momento Della ricerca Cazzo Ah Ah fuck Eh Per me è il momento Di livellare invece Così c'è un altro Buffino Buffino Buffetto Oh oh Cerchiamo qualcosina Non so se voglio andare Di blade master Sapete Noxus Will rise I tank con Draven È quello che sto a fare Eccolo Il problema è che I Darius Sono introvabili qua Ok Vabbè dai Tristana ha fatto qualcosa Tutto sommato Brava Tristana Purtroppo anche lui c'è a dare Oh no La ulti di Leona I've been rotto Sto mangiando anch'io Era buona Sì Non sa Come è piaciuto Vero? Tristana che sta Facendo Che attacca laggando Non capisco Credo che sia il momento di Critta Tristana Critta Ho vinto Ho vinto No Pareggio Pareggio win ragazzi Non ho visto No mi sa che È pareggio Boh Ah boh I didn't visto Vabbè Questo però è un Redbuff Garen Io non me lo lascerei scappare Il palo tra 40 minuti E va la tipa che mi fa ripetizioni No No Ripetizioni d'estate Mamma mia Non mi fa commentare No 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 Dai Darius attacca Basta sta congelando Madonna santa Che noia Si refullava lì Darius Ho sbagliato gli oggetti Volkan ha magnato il kebab Poi a lui Sì è vero Che è sbagliato Clapperone Ho sbagliato Per mettere un oggetto Su Draven Ops Mannaggia Bucchino Non me devi sbagliare Sì Maledizione Questo è un altro knight Però se lo metto Tolgo l'Imperial Però penso anche che tanki Un po' più di Darius Quindi Possiamo metterlo qua Eccolo Ok Spero di non prendere il cazzo dai lupi Perché c'ho una front line Che non è una front line Oh Tristana c'è guarda degli impiri Almeno Cioè dei nobili Meno male Ok no Tristana fa tanto danno Comunque Questo sì Questo mi piace Però a me Allora dai Quattai sì Bravo Clapper Ebbene Eh che ha detto Non lo so Ha detto qualcosa di strano Digli di non per il cazzo Digli di non per il cazzo Mi dissocio I dissociate Volibir Volibir fa i Glacial Però No Nein Nein Glacial Nein Ok Così è discreto Dai Vendo mia nonna E faccio il sub Oddio Fallo davvero Ma che non ne Sono sottovalutate Costantanto No voglio Non farti fregare GP con la Tormel Ma chi è sto matto qua Vabbè Cata Be like Rip Interesting Oddio Oddio Mamma mia Draven È Marchese Mi sa di sì Dravenato OP Ma ti stai accendo il Draven Con Ludens Eh sì Eh ce l'ho spiegato L'ho detto Ho sbagliato oggetto Ah Eh vabbè Ah Ah Eh vabbè Eh vabbè Eh non l'ho fatto apposta Dai su Eccolo qua Ti faccio vedere io Un vero Draven Adesso Clap Preparati Non volevo Eh sì Ah non volevi Eh troppo tardi ormai Eh no Eh no Troppo tardi ormai Mi dispiace dirtelo Ammetto via questa E metto colui Appunto mi prendo due Chogat Mi sa Se mi prendo due Chogat Mi serve Faccio Brawler Sì Ci sta Pa Adesso ci pensa Perciò Quanto questo dito Tic Troppo non è ancora la Live Steal Però non voglio dargli la Gun Bleed Al mio Draven Ti vuoi dare altro Ok Ottimi crit Devo dire Complimenti Un applauso Pensà che Sarò Rip Al prossimo turno No Clap Non me lo puoi dire così Eh sì Mi dispiace No Per forza così Eh sì No Lo so Ma purtroppo È la vita Ripone Clapperone Eh già Eh già Eh già Adesso aspetto Comunque so già Comunque L'Imperial C'è Swain Fish Infatti devo aspettare un po' Mo Katano la metto Perché avere 3 Empire Vuol dire che C'è possibilità che il buff Vada su Katano Io lo voglio su Draven Ecco È andato su Darius Quindi mi è andata male qua Però 50 e 50 Al 30 sarebbe 33% Quindi Katano la si mette Finché non c'è il quarto Rip GG No brain but aim Ho beccato due volte Per due volte di fila L'ho il primo Per due volte di fila Tranquillo Ne spazzoi un altro Così ti fa compagnia Clap Ecco qua Oh yeah Ciao No brain but aim Esatto Ottimo nome Per il no brain Ci ho preso Bello Swain Oddio quel Draven Mi serve C'ha proprio C'ha anche l'item perfetto Ragazzi Perfetto Draven Magic Raga Perfetto Perfetto È la BTS Quarata appena Travo un altro Draven C'è meglio di così Non potrei andare Non devo neanche shardarlo Adesso trovo il Draven Del Clapperone Che ci ha appena salutato Eh Direi Ce l'avevo Quasi al 3 Ce ne avevo parecchi Come quasi al 3 Oddio Eh ce l'avevo quasi al 3 Draven al 3 non puoi farlo Compri nei due Se no butti via i soldi Puoi toglierlo agli altri Comprando ma al 3 è impossibile Ah Perché fare un livello 4 al 3 è Le leggende Narono che sia impossibile No no Avevo Già Draven Due Draven al 2 Avevo se non sbaglio Eh non ne trovi altri 3 Ce sono 11 in totale Mi sa Dei livelli 4 Ah ho capito Bella Bella di Grazie mille del sub E benvenuto Nella Fierix Arm Carissimo Grazie mille Del supporto Tanti saluti Sei pronto a vedere Il mio Draven clap Questo è Questa è la È la mia È la build più forte Per Draven Questa A parere mio Proprio in assoluto La più forte Se andasse tipo il buff Guardian sarebbe vinta Easy Il Guardian dice Eh se andasse il No il nobile Il nobile Questa è Glaccia Qua mi servono dei brawler Che poi quella lì Non è una I Glaccia al Guardian È un'altra letta Non è una I quella lì In realtà Non è Abby È tipo una I strana Sì sì no lo so Però Mi viene a chiamare Mi viene a di Abby Volibear voglio Chissà cos'è Volibear Volibear Oddio Noble Guardian E Glaccia al Guardian Oh cacchio Sì vai Dopo c'è sta comb Fortissima Ci sta Proteggete È partito il Protect the President Various doppia ghinzo Sì sì E dovrebbe farmi dei danni Immagino Oddio È che c'ha dell'AP Quindi dei danni li fa Però Adesso li insegno un attimo Deve in quattro svegliato Ecco Ecco Adesso ha capito meglio Mi sa Mi sa che adesso Gli è chiara la situazione Zed is coming 10 livello 5 Ok 13 livello 4 Perfetto Proprio come nel gioco vero Esatto Veduta mia nonna Il sub è fatto Grazie Wery Però io Non voglio dire Però secondo me Se vende Con la vendita della nonna Ci guadagnavi di più Di un sub di tira 1 Dici? Sì Non voglio esagerare Fare i conti in tasca con gli altri Però secondo me Ah boh Ah boh Ah boh Ah boh Ok Questo E Questo Ah minchia Comunque d'Arsa Luna È abbastanza penoso Devo dire Ecco qua C'ho pure i guardian Quindi Luna la piazziamo qua Ottimo Un altro grave Non lo prendo Perché È abbastanza impossibile Però tanto Lucia Vabbè intanto lo prendo Tanto Perché lo tengo lì a fa Magari lo tolgo agli altri Se qualcuno volesse Imitarmi Adesso Guardi oggetti tankiness A sto punto Mi faccio una bella Frontline Ah Vabbè Oppure non mi esce nulla Amen Guarda dove attacca Guarda Sì sì Attacca across the map Eeeh Eh però Chi li do Serve un altro carry Mi sa Garin È il momento di Garin carry Go go Livello adesso Sì No li metto su swain Buttalo via Garem Buttalo via Trevi in piccolino Ci metto Se ci metto questo Nobili Vai pure nobili Vai Vai C'era volibir Dalle a volibir Dov'è volibir Ah Non c'è volibir Ecco Forse Forse l'ho missato Ah il tizio di prima No Vane non la voglio A questo punto Swain Fantasma Oddio però sarebbe La guinso a Vane Lo so che non è male ragazzi Però in teoria Non volevo tenere Vane Io ho bisogno di Swain Ragazzi So che si assomigliano di nome Però io voglio Swain Non Vane Vabbè Poi faccio la guinso su Swain Ora che ci penso Sapete che ci avete ragione Siete più intelligenti di me A volte Anzi in realtà Non ce l'ha pensato nessuno V'ho detto gli e basta Ha il buff dei nobili Se ho capito Ma uno stronza caso Non mi interessa Io voglio buffare Draven Ragazzi Ma scherziamo Stiamo scherziamo Guarda là Quanti Darts ci stanno in giro Pensavo di peggio Sinceramente Un'altra volta questo Vincchia è vero Faccio l'altro Draven È vero Posso fare l'altro Draven È perché C'hai degli oggetti perfetti Eh Volendo Butta via Però Draven a livello 1 Non mi interessa Viene altro Draven a livello 1 Adesso vediamo Se ne trovi uno A livello un po' più alto Eh però mi serve Swain A prescindere Cioè quello proprio Non si discute Mi serve Swain Senza non ho gli Imperial Dopo rischio di buffare Il Draven più sfida Almeno così vedete Il buff è nato su Draven Così il buff dell'Imperial Che ti fa fare il doppio del danno Cioè clap Il buff dell'Imperial E gli Imperiali Fanno il doppio del danno Sì Soltanto che Se ne hai uno solo Lo dà Cioè se ne hai due Hai Se ne hai due o tre Ne dà uno a caso Quando ne hai quattro Li dà tutti Soltanto che Se ci metto un altro Draven Dopo c'è la possibilità Che il buff vada Su Draven O sul Draven più sfigato E io voglio averlo Sul Draven forte È quello il fatto Ah beh certo Almeno così Ho il 50-50 Per quello ragazzi Adesso comunque Dopo sto carosello Shoppiamo tutto E spacchiamo Eccolo No scherzo Dei Weary Ma secondo te Mi era una battuta Ah il Blitz Il Blitz che grippa Il Blitz è brutto Bruttino Beh Però 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 Mi sa che è stato un po' Molestato Sì 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 Bello Draven Però Se non mi inculano Swain Ah che culo Vai Ok Cioè sta in quella Dall'altra parte Però Aspetta Ok Vai Brum Ah ok Quello l'attac speed Quello Buono Ci abbiamo Swain Ragazzi Ci abbiamo Swain Dunque Valutiamo un attimo Adesso GG La gente in chat Sì sì GG ragazzi Kyle è knight nobile Oddio Guide my sword Ok Big salame Che leggende Che big salame Clap Già C'ho la BT Sicuro è un bot Ma sì dai Potenziamo Swain Ho deciso ormai Eppure una goccia Ci mettiamo Questo Minimolo viene Tutti il buff Oddio Ho tolto i nobili Cioè no Ah ho due nobili Così Vero No tre nobili Ok Eh non ho cambiato Draven Dopo devo Devo cambiare Meno male che non ho beccato Il tizio con blitz Eh no Ho tre imperial Mi è andata male Ho trollato io No ho trollato io qua clap Dimmi che non son fuori Ok Eh ho tolto il guardian Devo mettere kata dentro Devo mettere kata Così c'ha il danno raddoppiato Quello Eh sì Eh ciò gatto è un po' inutile Effettivamente Cioè ciò gatto non sinergizza Con nulla L'ho messo perché sai Ciò gatto al 2 Non si butta Ok mettiamo questo qua Mettiamo Darius Giusto perché è un meme Lì dietro Ciò gatto Lo dobbiamo buttare Per kata Eh mi sa proprio di sì Kata non è una gran front line Però Ehm Tempo del buff Livello Livello E c'è dentro C'ho gatto Adesso c'ho il buff Cos'ho Tre nobili Quattro knight Guarda il blitz Guarda Ho preso Swain Va bene Va bene Adesso Dreamy fa il doppio del danno Infatti Uno d'attacco è shot Avete Hai visto? Emo c'è pure Swain enorme Swain enorme Ok Brum è Glaciel E' vero C'ho più buff Adesso ce lo metto Peccato perché c'ho gatto al 2 E' enorme Oddio lo Yasuo E' lui Vogliamo lo Yasuo No forse è meglio Brum Però non devo Io non so qua come mettere Però la disposizione E' un po' complicata Leona avrebbe stare Tipo qui Eh col drago Doresti mettere un po' Intorno Non proprio lì Però Penso che con Drive Non ci sia il minimo problema Comunque Ah beh sì Là c'è l'Imperial Ok Se Giovanni è Knight Fa comodo se Giovanni Asaghi dite Che volete l'Asaghi Ragazzi Vedi si sparpaglia in loro Ma poi guarda Driven C'è Che tu Mi ha giulato L'altro Driven Comunque lo butto Driven sto pensando Dove mettere Driven dovrebbe stare qui Ok metto Kyle dietro Così Questo fa questi Così Vai Discreto Kata non lo prende Ma Kata è inutile Quindi ok Ma sì Questo non posso metterlo Tolgo se Giovanni Che è Knight Glacial Per Yasu In realtà non vorrei C'è Casuina al 2 Questa è una buona idea Anche se Giovanni è al 2 È una buona idea Vai Questo non ha il blitz Cos'è quel Driven là Un aborto vivente Spatola zecche Cos'è E lo zecche What is that aborto Ok Sì 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 È stato one hit Swain però Vabbè Poco male Arrivederci Muoio solamente quello con blitz Quindi Quindi non ha nessun modo di grabarmelo Allora L'ha tolto il blitz Non ce l'ha più Sicuro? Sì Guarda Potrei mettere il Driven dietro al posto di Darius Però non riceverebbe il buff dei Guardian Ah no si lo riceve Allora posto Non ho più blitz quindi Allora metto questo qua Così ok Buffan tutti così Doppio Driven Faccio un altro Driven ragazzi Minchia un po' Una trollata Non posso Non posso fare un altro Driven Vorrei eh Giuro però senza oggetti Ci ha infilato uno Yasuo Ok Buff dei Guardian si sommano Ah capito Ok perfetto Gli HP l'ha tolti a Brom Va benissimo Addio La gente che fu cussacata L'adietro Ah boh Ecco si Ah però bene Che hypercarry che Guarda lì che danni fa Sejuani Clap Li vedi? Cioè li vedi che danni li fa? Ha Sejuani senza item Vabbè c'ha il Guardian eh Sejuani però Comunque Cioè c'ha il buff nobile Però vabbè Sì sì Guarda là Però vabbè Hai detto bene Però vabbè Però vabbè Non posso togliere Swain Ragazzi ma C'è C'ha il buff degli imperiali Draven fa il doppio del danno Se c'è Swain Asagi Asagi? Ah no ce li ho già tutti Sono No ah ok Ah niente Yasuo Non serve Vabbè lo tolgo lui Allora a sto punto Una Kata O un Darius Ok È l'ultimo proprio Ok No no Non si buttano Swain Swain al 2 A posto Vabbè Non penso Ecco guarda come si è full la clap Come ha succhiato Mamma mia Come le bottane Grazie Tobis Ben tornato bro Su bugato dal banco Su bugato Grazie mille bro Ben tornato Qua cosa voglio Ma non so nemmeno io Vieni a prendere Yasuo Vieni a prendere Yasuo Lo sapevo che voleva Yasuo Glielo è inculato Guarda Adesso ti prendo Oh no Adesso Una spatola Può rimanere anche lì La spatola Pronto? Sì Adesso ti prendo Sì Oh la signora Anna è morta Oh casso Mi dispiace Noi abbiamo preso il numero Dall'elenco Vabbè gg Eh sì Non li butto So che vorrei qualcos'altro Però dopo li trova lui Non tanto è l'ultimo round Questo quindi Oh Le 1 al 2 vai Così ci buttiamo anche l'elen Ecco qua All'ultimo Eh Yasuo se l'hai fatto al 2 Eh sì Vabbè Adesso Adesso Draven Ecco Manco il tornado Gli ha fatto fare Draven Zero Che lui c'ha una comp Di immortali C'ha Kindred C'ha Kyle C'ha Fiora Che pare gli attacchi E niente Io c'ho Draven Ma Draven Alla prossima Buonotte Avesti fatto Draven al 3 No Ma Ragazzi Adesso Vi spiego come funziona Vi spiego come funziona Con 3 Draven al 1 Fate un Draven al 2 Aspetta Clapper Intanto Un applauso a Fieri Che vince senza C'è un pal 3 E con Darius al 1 Darius Saluro fino alla fine Bravi bravi Grazie Clapperone Grazie 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 Va bene Allora Vi devo un attimo Spiegare alla gente Grazie a tutti